A Milano un gruppo di militanti, di Fratelli d'Italia, guidata dall'ex ministro, la russa, ha invaso la stazione centrale con bandiere e striscioli tricolori per manifestare contro l'operazione Mare Nostrum e l'immigrazione clandestina. Al grido di Italia, Italia, via chi bivacca alla stazione ai milanesi, i manifestanti hanno girato intorno al presidio per i richiedenti asilo che da alcuni mesi assiste chi arriva a Milano e che spesso è diretto in altri paesi del nord Europa che per arrivare spesso hanno attraversato il Mediterraneo su gommoni e barche di fortuna.